buongiorno le mie condizioni attuali sono queste ho appena lavato i capelli devo ancora farli mi devo truccare sono piena di brufoli ma vabbè oggi è una bellissima giornata faremo delle cose stupende buon appetito bene iniziamo ufficialmente la preparazione e ovviamente farò le mie famosissime onde con la solita giacca di max io oggi sono super felice perché andremo a un campo di zucche e finalmente mi immergerò nell'atmosfera super super autunnale non vedo l'ora ecco adesso mi sto truccando super velocemente perché sono in ritardo oggi il tempo è passato in un secondo comunque siamo in macchina e stiamo andando al campo di zucche eccomi arrivata sono al campo di federica e adesso vi faccio vedere tutto oddio non portarmi dal pavone ma sta andando via vabbè da qua ha paura anche questa zona è bellissima mi viene da piangere perché troppo bello viene davvero ed è venuto anche luciano e adesso andiamo a intagliare le zucche stanno tutti scegliendo le zucche tu questa troppo piccola bella questa mi piace anche questa forse l'ho trovata è perfetta ditemi voi se non è la cosa più autunnale del mondo adesso ci mettiamo a dipingere penso semplicemente che la decorerò con dei fantasmi anch'io anche io voglio ragazzi abbiamo pensato tutti la stessa o dei ragni boh ai bb stelle i ragni i fantasmi fate un po' quello che volete dei funghetti mani seconda mano facciamo la sfida di chi la fa più bella va bene cioè lei l'ha presa sul serio anche con la ricerca immagine cerca su internet come si fa il bordeaux dai con un po' di viola un po' di nero io mi sto facendo piccoli e grandi a caso comunque a questo punto facevo prima a fare tutta la zucca bianca e riuscivo ecco la situazione abbiamo due fantasmini abbiamo questo purpurri di halloween e io sto facendo i cuoricini ah ma che chiude il fantasmino così ma dite che devo scrivere al tribù? ed eccole qui finite che belle questa è la mia bellissima ovvio Luciano Federico Gloria e la mia organizzando il set fotografico oh no ma sono bellissime io e Fede siamo qui ad aspettare la cena abbiamo deciso di fermarci quindi mangeremo in questa atmosfera bellissima buon appetito è vero ok sono tornata ora sono in bagno perché non vedo l'ora di struccarmi comunque il pomeriggio è stato veramente bellissimo e non vedo l'ora di entrare sempre più nel mood autunnale tra l'altro non trovo più il mio cerchietto skin care quindi ne sto usando uno normale colsini anti goccia ok tutto fatto e io vi mando anche la buonanotte ok 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 ok